ebbene sì carissima la mia raga family benvenuti nella primissima puntata di money time un nuovo format che voglio portarvi qui sul canale con una certa cadenza che spero già dal titolo vi faccia ben capire di che cosa vogliamo trattare all'interno di questi video ossia finanza personale e soprattutto fintech quindi tutte quelle soluzioni smart quelle soluzioni digital che noi tech addicted piacciono tantissimo legate soprattutto al mondo della finanza attenzione quando si dice finanza tutti quanti rizzano i capelli si spaventano e dicono oh mio dio mi vuoi fregare i soldi vuoi fare cose strane eccetera eccetera tranquilli tranquilli niente di tutto ciò semplicemente vi porterò delle soluzioni smart che appunto potranno esservi d'aiuto nella vostra quotidianità per gestire al meglio i vostri quattrini per gestire al meglio determinati aspetti a riguardo e soprattutto essere consapevole a 360 gradi di quello che insomma accade intorno a noi all'interno di questo mondo tech e se devo dirvi la verità quest'idea qui nasce da quel video che avevo fatto qualche tempo fa vi lascio qua sopra dedicato appunto a un confronto tra la carta hype e la carta n26 che è divenuto il video più visitato più visto sul mio canale youtube e questo mi ha fatto capire soprattutto dai commenti e anche dai messaggi che ho ricevuto su instagram che ci sia proprio una lacuna bella grossa all'interno appunto di questo mondo che nessuno no ci spiega i nostri genitori non ce lo spiegano a scuola tanto meno per cui secondo me essendo nel ventunesimo secolo e avendo tutti quanti uno smartphone insomma in tasca soprattutto in mano penso che sia assolutamente il caso di trovare delle belle soluzioni che possono fare un po al caso di tutti però direi che iniziamo subito con il primo tip di oggi sto parlando di budget un'applicazione che avete forse già avuto modo di intravedere all'interno del video che vi ho portato relativo al mio apple watch che vi lascio sempre qua sopra dove appunto vi parlavo di questa applicazione che utilizzavo per andare a gestire insomma le mie entrate e le mie uscite si tratta di un'app che è disponibile solo per ios però vi lascio comunque in descrizione anche il link per scaricare un'app per dispositivi android che non è identica dal punto di vista grafico estetico però grosso modo alle stesse funzionalità per andare comunque a registrare quelle che sono le vostre uscite quelle che sono le vostre entrate personalmente utilizzo budget da diversi anni mi trovo veramente molto molto bene perché mi consente di andare a registrare tutto quanto tutti i movimenti insomma di denaro che faccio e questo mi è veramente molto utile per poter capire alla fine della settimana del mese di sei mesi o di un anno dove ho speso i miei soldi perché è chiaro che se si tratta di spese ingenti ce le ricordiamo tutti no quella volta che siete andati dal dentista avete lasciato un sacco di soldi lo sapete che le avete lasciate quella volta che avete comprato il nuovo iphone un nuovo smartphone lo sapete aver speso mille euro ve lo ricordate però invece le spesucce quelle più piccole come può essere per esempio il caffè piuttosto che andare una volta a fare aperitivo magari prendere un panino cose di questo tipo cui spese un pochettino più contenute tendiamo insomma a mandare un attimino nel dimenticatoio e questo è sbagliato perché dobbiamo sapere assolutamente dove vanno i nostri soldi e in che modo li spendiamo e qui budget viene utilissimo però adesso andiamo ad analizzarlo un pochettino più nel dettaglio così capite di che cosa sto parlando e attenzione tutte le cifre che vedete all'interno dell'app che so per farvi vedere non rispecchiano assolutamente le mie entrate o le mie uscite personali ok questo si tratta semplicemente di una demo che utilizzo per mostrarvi insomma il funzionamento dell'applicazione ci tengo a dirvelo perché comunque allo stesso tempo credo che la privacy sia molto importante qui online quindi spero assolutamente che possiate capire so che siete persone a modo ed eccoci qui con budget che subito vi mostra la sua grafica veramente molto semplice molto minimale e che direttamente dalla home page vi mostra il bilancio del mese corrente con anche tutto l'elenco delle vostre entrate e uscite suddivise appunto per colore rosso che indica le uscite e verde che va ad indicare le vostre entrate sotto potete notare che ci sono diversi tab quello degli obiettivi poi abbiamo anche quello delle statistiche poi le impostazioni e anche poi questo tastino più che va ad indicare appunto l'inserimento di una transizione che può essere positiva intesa come entrata oppure negativa in caso di uscita aspetto interessante di budget che potete inserire direttamente delle uscite delle entrate a seconda di varie categorie come per esempio quella trasporti spese telefoniche la spesa e così via e appunto selezionando una delle varie categorie potete andare subito a categorizzare se così vogliamo dire le vostre uscite e lo stesso vale anche per le entrate supponiamo però di essere in vacanza e di aver speso oggi per esempio 250 euro volendo possiamo anche inserire insomma una descrizione per rendere tutto quanto più riconoscibile nel corso del tempo come per esempio vacanza in calabria così tanto per inventarci qualcosa dare l'ok e in questo modo verrà inserita subito in un page nelle vostre spese con la data odierna tutto questo veramente molto comodo perché poi viene anche inserito all'interno delle statistiche che poi vi possono essere mostrate sia con bilancio mensile che eventualmente andare a visualizzarle per settimana oppure addirittura anche in maniera annuale veramente molto molto comodo perché avete così un quadro generico di quello che sta accadendo insomma nelle vostre tasche qui avete per esempio il bilancio di luglio che vi mostra tutte le entrate tutte le uscite e la cosa bella poi è che direttamente da qui per esempio molto importante potete andare a vedere le vostre uscite anche le categorie in cui avete speso di più quindi in alto ci sono quelle più dispendiose poi scendendo quelle un pochettino meno importanti sulle vostre tasche e questo veramente molto interessante perché in questo modo saprete dove andare a tagliare e insomma come risparmiare utilizzare al meglio il vostro denaro c'è la sezione obiettivi che è la seconda che onestamente io però non utilizzo più di tanto appunto perché questa applicazione non è che va ad essere connessa in maniera diretta per esempio al vostro conto e quindi non è che vi blocca le uscite nel caso in cui per esempio esageraste nell'acquisto di qualche cosa per cui non la utilizzo poi ci sono anche le impostazioni che vi consentono di impostare per esempio un pin per l'accesso all'applicazione o volendo anche esportare tutti i contenuti per esempio in un foglio excel per magari fare ulteriori modifiche utilizzare comunque i dati presenti all'interno di budget per altri tipi di calcoli molto interessante poi anche il fatto che tutte quante le transizioni che avete fatto nel corso della vostra attività su budget vengono salvati in automatico all'interno di icloud e questo vi consente quindi nel caso in cui dovesse acquistare un nuovo smartphone di avere tutto quanto sincronizzato e un'altra cosa fichissima di questa applicazione sta appunto nel fatto che esiste la versione per apple watch con anche la sua complicazione dedicata e questo è veramente comodissimo perché per esempio nel mio caso io utilizzo una watch face dedicata quando vado a fare shopping o comunque quando esco di casa per segnare ogni volta le spese che faccio in maniera molto molto comoda semplicemente cliccando su di essa e andando a utilizzare quindi l'apple watch si può addirittura utilizzare la dettatura vocale per andare a registrare le uscite o le entrate selezionando anche in maniera sempre vocale in quale categoria di riferimento vogliamo che la spesa o comunque l'entrata venga registrata all'interno di budget ovviamente vi starete chiedendo perché dover segnare costantemente ogni giorno le vostre entrate o le vostre uscite no qual è lo scopo principale di questa cosa qui molto semplice ossia sapere no tramite le statistiche che già l'applicazione di budget vi fornisce quanti soldi effettivamente vi servono per poter sopravvivere no per esempio per sei mesi o ancora meglio per un anno nel caso in cui dovesse succedere qualsiasi tipo di cosa no per esempio magari perdete il lavoro o magari vi fate male non potete andare a lavorare faccio le corna per voi perché spero non accada mai a nessuno ok però non si sa mai nella vita cosa può succedere giusto magari può essere che dobbiate andare dal dentista e costa un sacco di soldi oppure si rompe la macchina e dovete cambiarla per cui capite tutti questi eventi non previsti che possono creare un pochettino di problematiche no e la soluzione sta nel mettere da parte una bella cifra per stare tranquillissimi nel caso in cui qualsiasi cosa dovesse accadere ok ed io personalmente che cosa faccio? metto da parte questi soldi all'interno del mio conto N26 tra parentesi questo non è un video sponsorizzato da N26 sono semplicemente una cliente molto soddisfatta del servizio di N26 perché appunto ha questa funzionalità che altre carte non hanno ossia all'interno dell'applicazione di N26 si possono creare dei sottoconti ok al di sotto diciamo del conto principale che si chiamano spaces ossia degli spazi separati dove potete mettere i vostri risparmi io personalmente ho il fondo di emergenza in uno spazio e poi anche un altro space dedicato alle mie rette universitari le spese dell'università che sono una sfracellata ogni anno però se cosa ci dobbiamo fare e questo insomma mi serve per poter mettere da parte in due salvadanai diversi praticamente i soldi di cui davvero ho bisogno in questo modo se dovessi andare per esempio a pagare non lo so al ristorante con la mia carta N26 posso utilizzare solamente i soldi del conto principale quindi quelli in alto a sinistra e tutti gli altri due quindi nei due spaces diversi non vengono considerati dal conto principale quindi come se non esistessero e questo è veramente fichissimo perché mi consente davvero di risparmiare ad avere i soldi proprio in caso di eventuali emergenze e la cosa bella è che questa funzionalità degli spaces è disponibile già nella versione base nella versione gratis di N26 che secondo me è un plus non da poco vi lascio comunque il link qua sotto in descrizione nel caso in cui vogliate sapere qualcosa di più su N26 ripeto di nuovo non è un video sponsorizzato da N26 e ovviamente come potete vedere ci sono una marea di cose di cui parlare all'interno del mondo del fintech della finanza personale che insomma andremo a sviscerare piano piano nel corso dei prossimi video di Money Time spero comunque che questa nuova serie veramente vi possa piacere, vi sia piaciuta e soprattutto vi sia stata utile fatemelo sapere semmai qua sotto nei commenti perché mi farebbe davvero tantissimo piacere noi ci rivediamo comunque settimana prossima sempre qua sul canale ma soprattutto su Instagram quando volete ciao ciao